Sebbene a partire dal 2024 il reddito di cittadinanza sia stato sostituito dal supporto per la formazione e il lavoro e il nuovo assegno di inclusione, non si fermano i controlli per verificare se chi lo ha percepito in passato ne abbia veramente avuto diritto. E non mancano purtroppo le conferme di questa indebita percezione delle risorse erogate dagli enti previdenziali a sostegno del reddito. A Crotone la Guardia di Finanza ha individuato e denunciato 123 persone che avevano commesso diverse irregolarità e falsità nelle richieste rivolte all'Inps. In particolare tra i soggetti denunciati risultano numerosi extracomunitari privi del ricosito di permanenza minimo nel territorio dello Stato pari a 10 anni, cittadini che si dichiaravano disoccupati ma che in realtà lavoravano in nero e soggetti con precedenti penali, alcuni dei quali legati anche alla criminalità organizzata. Il danno erariale ammonta circa un milione e mezzo di euro con la conseguente segnalazione all'Istituto Previdenziale preposto all'erogazione del sussidio, che ha provveduto al blocco di ulteriori importi indebitamente richiesti per circa 235 mila euro.